Take it easy, take it slow We ended up just like before So take it easy, take it easy Ragazzi prima di iniziare con il video vi rubo giusto due secondi Da come potete leggere da questo grafico Il 95% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale Quindi se sei nuovo e non sei iscritto al canale Mi raccomando iscriviti con la campanella attiva Ringrazio di cuore ognuno di voi che lo farà Veramente grazie di cuore Ora vi lascio al video, buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cichinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Ragazzi prima di incominciare con il video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale Mi raccomando con la campanellina di lasciare un bel like e di condividere Mi raccomando questo video perché oggi abbiamo una notizia Che è arrivata pochi minuti fa davvero molto molto interessante E inoltre vi ricordo di seguirmi anche su Instagram Cichinato trattino basso tv Ragazzi direi subito di iniziare il video abbastanza breve Oggi andremo a vedere come si potrà ottenere questo piccone Che vedete proprio alla mia destra E inoltre ragazzi come forse avrete già visto sicuramente alcuni di voi Ragazzi i V-Bucks sono stati appena scontati Come potete vedere nuovi prezzi ridotti Abbiamo 1000 V-Bucks a 8€ 2800 V-Bucks a 20€ 5000 V-Bucks a 32€ E 13500 V-Bucks a 79€ Quindi sconti davvero molto interessanti Se dovete fare la ricarica di V-Bucks mi raccomando fatela in questo periodo Perché hanno praticamente scontato di brutti i V-Bucks E per diciamo tra virgolette festeggiare questi prezzi ridotti Epic Games ci regala un nuovo piccone Ragazzi ebbene si questo piccone che avete visto alla mia destra Sarà quello che ci daranno tutti Semplicemente loggando State tranquilli se non l'avete ancora nell'armadietto Andate pure tranquilli È semplicemente che ci vuole giusto un po' di probabilmente minuti Prima che lo diano a tutti Ma basta praticamente solo loggare su Fortnite In questa settimana E potremmo riscattare questo piccone Semplicemente loggando Non dovete poi fare più nulla Se non lo vedete ancora nel vostro armadietto State tranquilli È un problema probabilmente di Epic Che non l'ho ancora dato a tutti Ma state tranquilli In queste ore lo daranno sicuramente a tutti i player di Fortnite Detto questo ragazzi Questo video può finire Notizia veramente flash Spero che il video vi sia piaciuto Vi sia stato utile E noi ci vediamo un prossimo video Bella Ciao